Greta Cecchetti, è arrivato il momento di ricominciare, io direi così, perché in realtà avevate iniziato una prima preparazione a gennaio e poi è successo di tutto, cioè come se non fosse sufficiente la pandemia, in realtà purtroppo la perdita di Enrico Bletter è legata alla pandemia, però c'è stato anche questo e adesso dovete ricominciare, con che spirito, con che mix di emozioni, con un obiettivo chiaro in testa, ma con che sensazioni? Sicuramente è stato un periodo difficile, diciamo che già prepararsi per un'Olimpiade in tempi normali è abbastanza difficile, avevamo una programmazione, era stato fatto un bel lavoro per farci affrontare delle partite difficili in paesi diversi, ovviamente tutto questo non è potuto succedere, è come se le cose non fossero già difficili abbastanza, è venuto a mancare Enrico e questa cosa è ancora fresca, quindi guarda le emozioni che proviamo adesso sono molto forti ancora, ancora quasi non sembra vero, penso che tutti noi ci aspettiamo che da un momento all'altro entri dalla porta e ci dica di muoverci, andare in campo e cominciare a lavorare, quindi ti ripeto sono ancora tutte emozioni molto fresche, ma l'unica cosa che possiamo fare è prenderla giorno per giorno e cercare di farci forza insieme e andare avanti, come avrebbe detto lui. Nei giorni immediatamente successivi alla perdita di Enrico, voi soprattutto sui vostri profili social avete espresso dei sentimenti di una profondità incommensurabile, io la definirei così, questo è il significato di un legame profondo che vi legava e che legava a questa famiglia, lui era una sorta di papà, voi vi siete sempre definite sorelle, è molto difficile ripartire, ma per paradosso forse è un po' più semplice così, nel senso che una famiglia si aiuta in maniera forse più concreta, forse in una famiglia è più facile affrontare una perdita così dura? Diciamo che è stato molto difficile per tutti noi essere lontane, appena abbiamo saputo di quello che stava succedendo, ovviamente noi non viviamo insieme, non abitiamo neanche tutti molto vicino, però tra di noi si sentiva questa vicinanza, ci sentivamo, come stai, come non stai, sono in shock, è sempre surreale, sta succedendo davvero, insomma le emozioni che provavamo erano le stesse e diciamo l'energia che sentivamo tra di noi è stata una cosa che mai avevo provato in vita mia e sinceramente spero di non doverla provare mai più. Un po' diciamo abbiamo iniziato a elaborare, se si può dire così, nei nostri cervelli ciò che è successo, ancora abbiamo tanta strada da fare, però sicuramente sì, siamo contenti di essere qui tutti insieme e di poter ricominciare ad andare avanti tutti insieme, piuttosto che ognuno a casa sua, quindi per questo siamo molto grate a tutte le persone che stanno facendo degli sforzi immensi per tenerci qui insieme. Di questa tanta strada da fare, quanta parte è tecnica e quanta parte è mentale? Allora sulla tecnica comunque siamo a marzo, quindi come qualsiasi altra stagione tutti siamo appena scese in campo, chi più chi meno, però comunque con i permessi che abbiamo noi della squadra olimpica abbiamo accesso ai campi e alle strutture per allenarci in modo adeguato, diciamo, magari non come in un anno normale, però comunque non siamo messi come nel 2020 quando assolutamente eravamo chiuse in casa e questo fa una grande differenza. Per quanto riguarda la parte mentale, guarda ti dico, è una cosa che non ci è mai successa prima, stiamo cercando di elaborarla e adesso penso che sia il momento di provare tutte queste emozioni che abbiamo bisogno di provare e poi penso che succederà piano piano e sarà graduale, sarà diverso per tutti, ma prima o poi succederà e supereremo questa cosa e riusciremo ad andare avanti, quindi purtroppo non ti so dare una risposta, vorrei averla, vorrei poterla dare a tutti, però in questo momento non te lo so dire. Tornando al discorso tecnico, parlando con Erika Piancastelli e della sua esperienza con Athlete Unlimited, mi diceva che dall'altra parte dell'oceano è aumentata la dose di rispetto nei confronti dell'Italia dopo ciò che avete fatto alla qualificazione olimpica di Utrecht e dopo come avete vinto l'europeo del 2019. Credi che questa sorta di rispetto, timore che anche le professioniste americane, canadesi, australiane, giapponesi, messicane, possono avere nei vostri confronti, possa giocare un pochettino a favore vostro durante l'Olimpiade? Sicuramente la trasformazione che Enrico ha fatto con questa squadra è sotto gli occhi di tutti, non magari troppo sotto il punto di vista tecnico, non che non sia successo ma magari quello non salta tanto all'occhio, ma più che altro dal punto di vista dell'approccio mentale, lui ha preso noi, ci ha cambiato il modo in cui approcciamo le partite, ci ha completamente trasformato e credo che questo negli ultimi tre anni sia stato palese, è stato bellissimo viverlo in prima persona e credo che sia stato bello anche vederlo da fuori. Per quanto riguarda tutto quello che vedono gli altri intorno al mondo, io credo che sarà un po' magari un effetto sorpresa, credo, ma come diceva Enrico, noi speriamo che gli altri ci sottovalutino un pochino, perché quello sarà anche un punto di forza a nostro favore. C'è possibilità secondo te che vi sottovalutino all'europeo? Sarebbe sciocco, credo. Non so, magari uno può pensare all'Italia, come sta messa la pandemia. Che è concentrata nelle nostre Olimpiadi. Sì, ci ha colpito un po' di più rispetto agli altri paesi, forse un po' prima, un po' più a lungo. Tutti sanno che siamo stati quelli chiusi in casa più di tutti gli altri. Abbiamo perso Enrico e sicuramente questa cosa ha un suo impatto. Potrebbero pensare che siamo molto concentrati sull'Olimpiade, quindi non stiamo troppo pensando all'europeo, però quello che pensano gli altri a noi sinceramente interessa poco. Abbiamo tanto ancora su cui lavorare, tanta strada a fare. Quindi pensiamo al nostro e lasciamo agli altri quello che vogliono pensare loro.